Su, giù e su, giù e su, pensate a tenere la schiena bene attaccata a terra, da là sempre la schiena attaccata a terra, su e giù, su e giù, su e giù. Tornate più, grande, bene, andiamo su un'altra volta, in questa posizione e torniamo l'altra volta, bene, ok, adesso torniamo un po', si, e torniamo su, e torniamo su, bene, oh, dunque adesso, Grazie